E allora eccoci alla seconda classifica di quest'oggi, abbiamo visto con quale tempestività lei ha colto i 5 buoni motivi per festeggiare il nuovo anno, invece sono qui 5 buoni motivi per non festeggiare il nuovo anno e i 5 buoni motivi vedono al quinto posto tra i buoni motivi per non festeggiare il nuovo anno un motivo fondamentale, un motivo perché non è il caso di festeggiarlo questo nuovo anno perché tanto questa è Fontana di Trevi. Bernardini, è Bernini, Bernardini l'ha fatto giocare, sì, quello ma poi l'ha tolto perché era un po' immobile come terzino, è una truffa, ma che sta a dire? La Fontana di Trevi che si fa? Si butta la monetina, si butta la monetina, gli americani, gli stranieri, te invidio turista che arrivi, te bevi fuori e te scavi, poi tutto ad un tanto te trovi Fontana di Trevi che è tutta per te, c'è stana leggenda romana, intorno a sta vecchia Fontana, per cui si c'è butti in sordino, costringe il destino a fatte tornare. Perché si butta un soldino? Perché poi ritorni. Oh, è vero? È vero, chiedi a quelli che sono tornati, cioè io non è che tengo il conto di voi. Però solitamente si pensa che si chiama? Cosa fa? Lei si getta. E allora qual è un buon motivo per non festeggiare il nuovo anno? Per? Per non gettare, per non gettare, per non, per non, per non gettare che? Per non gettare la monetina. Quindi cosa? I? I denari. Per non buttare i soldi, per non buttare i soldi. Al quarto posto, tra i buoni motivi per non festeggiare il nuovo anno? No. Che? Si compiace perché ci ha messo meno di mezz'ora. No, perché io in realtà denari... In 43 anni non l'ho mai detto. Cioè i soldi, no? De solito, no? Denari. Allora non mi capacitavo di me, cioè dicendo proprio che ho detto denaro. I denari, capito? Cioè non è che 3-7. Si è autobasito lei. Si, mi è autobasito. Bene. Allora, cosa vede? Ho sciatto. E cosa fanno? Stanno partendo per la missione. Come partono? Come partono? Come partono? Come partono? Come partono? Partono da Cap Canaveral. Cap Canaveral. Si, ma come partono? Beh, partono tutti equipaggiati. Certo, non partono nudi. Ma come partono? Partono? Partono a razzo. Eh certo, sennò partivano a molla. È ovvio che a molla non si va tanto lontano. Partono a razzo perché quello è un razzo. Eh certo. Oh, ma come parte il razzo? Qual è la cosa che ricorda di... della partenza ad un razzo? Che si ricorda a lei? Ah, la rampa. La rampa. Quella... Cioè la rampa. Cosa si ricorda di un razzo? Il fumo. Il fumo. Cioè... Quando parte il fumo? Quando parte il fumo? Quando accendono i motori. E quando accendono i motori? E quando gli voleva arrivare. Secondo lei, l'ordine di partenza di uno shuttle è... A bello, namu! No. No. Ci sono... C'è tutta una... Eh? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ok. Ci sta. 3, 2, 1, 0. No. Ah, come a tennis. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, che dicono? 3, 2, 1, 0. Cioè... Quando... E quello è quando parti da capopassero. Fanno... 3, 2, 1, 0. No. 3, 2, 1, ejection. Ejection? Ejection. E che è colpa mia? Dica l'ejection. Ma non mi ha sentito. Perché lei è mai stato sullo shuttle. Ma neanche su Apollo, sui film film. Il film Apollo 13. dici... Ejection? Ma chi ha detto? Ma poi gli è Jackson. Ma no, Jackson. Quello è Michael Jackson o Janet Jackson, quella della zizza. No. Ejection. No, eiezione sarebbe in italiano tradotto. Eiezione. Eh, eiettalo? Eiettalo? Eh, esatto. Ma questo è un discorso pleonastico. In realtà, fanno cosa con 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4? Fanno il punto alla rovetta. E allora... Per non fare il punto alla rovescia. Bravo! Per non fare... Per non dover fare il punto alla rovescia. E al terzo posto, tra i buoni motivi che ci hanno mandato i nostri amici che ci seguono, eccolo qua. Al... Qual è un buon motivo per non festeggiare il nuovo anno? Perché cosa succede? Dunque... Cosa vede? Eh, lì, è uno che se ha due... Magari è andato male l'anno, se da due corpi. Sto pensando. Uno che è andato male l'anno, se da due corpi. Si fredda così. No, no, in realtà, perché quel signore ha la pistola? Secondo lei, perché è particolarmente inferocito verso quelli piegati? Ma no, perché... Diciamo, è quando... Come si chiama? Beh, ho capito. Eh, se parte, come si chiama? Quello che decreta la partenza. Sparo alla partenza. Sparo alla partenza. Sparo alla partenza. Dice, che lavoro fai? Io sono lo sparo alla partenza. No. La partenza, come si dice in inglese, lei è di lingua madre. Beh... La partenza è... Yeah, yeah. Ejection, è un'altra volta. Tutto così, è parte a lei. No. La partenza... Go, go. Go. Cioè, sprou, puff, puff, puff. La partenza è lo start. Start. Eh, se la partenza è lo start, quello chi è? Lo starter. Oh, e allora? Cosa fa lo starter? Spara. A casaccio. No, a casaccio no. Decreta... Decreta la partenza. Decreta la partenza. E quelli chi sono? I partitori. I partitori. I partitori. Gli atleti. Gli atleti. E che fanno gli atleti quando lo spara? E sono spiegati. Beh, beh, staccigliano a partire. Poi sparando... Spara lui... E lui parte. Ma come partono? Partono in avanti, che era la marcia. Partono in avanti come? Correndo. Quindi fanno... Fanno... Ehm... Lo... Lo so... Ehm... No. Dai! Che fai quando parti? Dai qua. Dai qua. Dai qua. Faccio... Va, che fa lei? C'ho carzoni stretti. Dai. Eh? C'ho carzoni stretti. Aspetta. Dai. Va, va. Che? Che ha fatto? Ho corso. Certo. Lo slancio. Lo... Lo scatto. Lo scatto. Lo scatto. Lo scatto. Cosa scatta? Ogni anno. Ogni anno? Cosa scatta? Scatta la... Cosa scatta? Scatta. Cosa scatta ogni anno? Scattano? I botti. Scattano? I botti. No. Scattano gli? Scattano... Cosa scatta se ogni anno? Non c'è niente da fare. Scattano? Madonna, ma io... Lei... Lei deve pagare? Io che devo pagare? Lei paga? Ma che devo pagare? Lei qualcosa la paga nella vita? Certo. Certo. La luce la paga? E beh... Che altro paga? Scattano la luce, la luce, il gas e tutte le cose... Cosa scatta? Cosa scatta ogni anno? Scatta... No, scattano gli... Come si chiamano? Gli... Gli stipendi. Gli stipendi. Scattano gli... Che dite? State pezzitti che me confondete! Beh, non facciamo la rissa! Scattano cosa? Ma chi è che scatta? I bonus! I bonus! Scattano e... Lei ha mai pagato una bolletta... Ma chi è che scatta? La luce! Scatta la luce! Il quadro della luce! Cioè, scatta il quadro! E andiamo tutti a tassoni per l'anno nuovo! Ma no! Scattano gli... Ma chi scatta? E te lo chiedo io! A me me lo chiedi! Scattano quelli! Quelli! Scattano quelli! Che è la luce, il gas e quelli, chi so? Quelli atleti! Scattano gli atleti! Invece, all'inizio di ogni anno, scatta cosa? Scattano gli... Scattano gli aumenti! Oh! E allora, qual è il buon motivo per non festeggiare il nuovo anno? Perché scatto, scattano gli aumenti! Che voi festeggiamo! Al secondo posto, c'è un buon motivo per non festeggiare il nuovo anno! Una cosa, eh... Cioè, io... Questo è passaggio a livello! Eh? Eh? Non... Non... Giuro... Da bravo! Sono anche persone anziane, dai! Qual il tacco, eh? Capito? Poi si accanisce sulle vecchie, perché? Eh, perché... Eh, allora... E ci sono loro! Ho capito, però non è giusto! Allora... Quali sono... Al secondo posto... Eh... Non ridere, Fester! Quali... Al secondo posto, tra i buoni motivi per non festeggiare il nuovo anno e per... Perché quello sta là? Perché là c'è una stazione, c'è un passaggio a livello... E allora... E allora... Se passa, mo' che succede? Se passa, viene traviato dal... Viene? Traviato! Perché il treno è tentatore? Viene traviato? Beh, il tram... Il tram... Il tramviere, il trambato... Il... Il treno passa, lo... Lo demolisce... Lo ci passa sotto... Come lo dite? Ma che lingua è? Che paese? Lei... Perché... Perché il treno? Il treno... Lo dovrebbe traviare... Perché... Cioè, quando passa il treno gli fa... No... Perché... Che vuol dire lo travia? Lo... Lo travia in senso... Il lato... In modo lato... Ecco... In senso lato... In senso lato... Allora... Il treno... Se passa quello... Quando passa il treno... Morire... Non ci... Non ci... Non torna a casa... Oh... Non ci torna... Anche se doveva andare nella direzione del treno... Non ci arriva... Esatto... Quindi che fa? Lui fermandosi... Lui aspetta che il passaggio a livello diventi verde... Bravo... Diventi... Nel caso... Cioè, diventi... Comunque... Non so che rapporti ha con il passaggio a livello... Può dargli del tuo... Del lei... Dico però... Quindi cosa evita? Lui evita... Beh... Evita di essere tranciato... Oh... Da chi? Dal treno... E allora... Qual è il buon motivo per non festeggiare il nuovo anno? Per... Per non essere tranciato... Ma no... Per non essere tranciato... È un simbolo... Per... Ma quale simbolo? È un simbolo... È un simbolo... Il simbolo che è... Che cos'è qua? Allora... Abbiamo detto... Treno... Ma che è? Nomi cose città animali... Troppo difficile... Treno... Treno... Quindi cosa evito io col nuovo anno? Evito... Perché non lo festeggio? Perché non prendo il treno... Per evitare... A me vanno pure a piedi... Non è quello il problema... Il motivo per non festeggiare il nuovo anno è per evitare... Per evitare... Cosa? I passaggi al livello... Per evitare cosa? Per evitare i treni no... Cosa fa lei a Capodanno? Oh io ne ho fatto... No veramente... L'ha detto pure prima... Lei cosa fa a Capodanno? Perché a lei Capodanno fa schifo? No a me... Io sto a casa... Capodanno... È una festa che preferisco stare da solo... Perché ho sempre lavorato... Capito? La la me mette una tristezza... E... Proprio... Come si dice... Indigena... Cioè io dentro... Una tristezza indigena... Proprio del luogo mio... Dentro... Dentro io mi entristisco... Tutti sono tristi... Le cellule sono triste... Perché sanno che fuori... Fanno casino... Ma che cavolo dei casino... Ma che casino... Ma che festa è... Sta sul terrazzo... A sparare botti... E magari ammazzi quel vicino... Non volendo... Ma non è una festa... Buttare lavatrici sulle macchine... Ma che roba è... Ma che è una festa... È una tragedia... È come Beirut... Che è una festa là... No è una guerra... E Capodanno è sempre una guerra... Allora... Riflettiamo un attimo... Se ci avete... Da rottamare le lavatrici... Non aspettate Capodanno... Rottamatele subito... Che poi ci sono pure i boni... In questa festa... Però... Lei prima... Mi ha fatto un accenno... Che cos'è... Che la intristiva... Del Capodanno? Ma vedi... La vecchietta... Che c'è una scarpa rossa... E una scarpa nera... Che fa pepepe... A 95 anni... Ma non sapò... Ma non sapò... E allora... A parte che la vecchietta... Ha diritto di divertirsi come lei... Sì... Ma a me ero triste... Eh? Io ero triste... A me mi pioveva pure una batteria... Io... A ostia... Ma non sapò... C'è una ostia... Cosa le dà fastidio della vecchietta? Ma no... Della vecchietta... Cosa è che le dava fastidio? Ma lì... Nella cosa che ha detto... Cosa le dava fastidio della vecchietta? Era la scarpa... Della vecchietta cosa le dava fastidio? La scarpa? Era l'immagine triste... Era felliniano tutto... Eh... Che faceva la vecchietta che la intristiva? Ma... Che faceva? Ma... Poteva mettere le due scarpette dello stesso coloro... Ok... Ma quello è un problema secondario... Ma perché la intristiva? Perché cosa faceva con quelle due scarpette? stava facendo... Ma... Faceva Pe-Pe-Pe-Pe... E che cosa vuol dire fare Pe-Pe-Pe-Pe? Stava fest... Pe Pe... Ttu-ttu-tu... S'altro suoni? Cosa vuol dire fare Pe-Pe-Tu-tu? A Capodanno se uno fa Pe-Pe personaje a parte che è incredibile... Dico ma se fa Pepe e Tutu cosa fa? Sta facendo cosa? Sta facendo Capodanno? No, sta facendo cosa a Capodanno? Facendo Pepe... Una trombetta, va... Sì, quella è la lingua di Menelic. Tutte le cose che si vanno a Capodanno. Ma Pepe e Tutu che vuol dire a Capodanno? Io sai che con mio figlio Davide di due anni e mezzo riesco a parlare meglio? Cosa fa? Se uno sta attaccato ad un altro così e fa Pepe e Tutu, Pepe e Tutu... Ah, il trenino. E allora qual è un buon motivo per non festeggiare il nuovo anno? Per non fare quel trenino. Per? Per non fare il trenino. Quindi se non lo vuole fare, lei lo vuole? Lo vuole evitare. Per evitare il trenino. Ah, per evitare il trenino. E beh, ho capito. L'ultimo motivo, il primo, al primo posto, quelli che ci hanno scritto, ci hanno detto che un buon motivo per non festeggiare il nuovo anno è perché... Eh, oddio, mi pareva finita, invece, amori, cominciamo. Perché? Per... per... Perché? Questo è facilissimo. Questo è proprio, è l'emblema del motivo per cui molti non festeggiano. Perché? Per... perché? Per non rimanere a gatto pardo, cioè a pelle di leopardo. Perché dopo una nottata... Quindi come si dice? Come si dice? Leonino, leone. Perché? Per rimanere... Come si dice? A pelle del leone. A pelle del leone. No, per... Come si dice? Perché? Chi la notte... Perché le... Chi la notte... Chi la notte la fa, la mattina l'aspetti. Perché? La notte... Io sai che non ce credo io. Io sta cosa... No, io sta cosa cosa che ne vuoi dire. All'inizio che tu mi hai detto... La notte... La notte... La notte... La notte... La notte leonina. La notte... La notte... La notte... La notte è leone. La notte... Ruggico. La notte... Dica, segua me. Segua me. La notte... Leone. La mattina... Segua me. La notte... Leone. La mattina... La notte... Pegora. No. La notte... Dica, segua. La notte... La notte leone. La mattina... Credino. Un po' peggio. Cosa fa rima con leone? Con il leone. Perché la sera leone... La mattina... La mattina... fornigini... La mattina... La mattina... Fornigini... La mattina... Fornigini... La mattina...